Mi sentivo un mattone sul cuore. Stai venendo un spider. Mi attivavano a dirmi che potevano essere quelli che eravano prima. E che non mi attraverano se non riuscivo a dare un'altra cosa. Volevi dare una bella seguita. Oh, una maschia! Io non ho la schia. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Ali! E il miglasura. Quack! Who is it? gameplay, Metti mo' di mangiare. Cosa c'è mangiato? Cosa c'è mangiato? Qua 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 qua... Ma di muovere con te. Forse è come questo. ha fatto sì che accadessi un altro Oh, lei non vede il mangio C'è, solo vedi Quattro E qua, lì 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 Sì, sì Papà, mandala la mia maestra Papà Papà, mandala la mia maestra Se ne mangiate, mangiate Oh, ma per cosa Questa è la cosa Guarda E qua, lì Sì si è